Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, è ormai giunta a metà del suo percorso, quantomeno quello che riguarda l'anno da capitale in sé, mentre le prospettive per gli anni che verranno sono tutte in divenire. Abbiamo così chiesto a Daniele Vimini, riconfermato vice sindaco e soprattutto assessore alla cultura, un suo commento su questi primi sei mesi da capitale. I primi sei mesi da capitale sono quelli che ci eravamo aspettati, chiaramente nella versione ottimistica delle aspettative, intanto perché c'è una bellissima distribuzione di pubblico, di pubblico nazionale, di pubblico internazionale ed estero, quello estero va detto anche in seguito al connubio tra anno da capitale e l'interesse ulteriore raggiunto per eventi sportivi, come quello del basket di questi giorni e in generale però una voglia continua di scoprire la città, lo vediamo insomma e ce lo dicono soprattutto gli esercizi, i restauranti, i locali, i bar, gli alberghi, nella tipologia di pubblico che è un pubblico ulteriore, diverso, in aggiunta a quello che la città già stava riavvicinando da diversi anni, in particolare anche quelli dell'inizio, della curiosità della capitale e ora appunto vediamo un pubblico che ogni ora della giornata, portando anche qualche locale a cambiare un po' le abitudini degli orari, comprese quelle dei pasti, in funzione di quello che un pubblico internazionale richiede, che sta veramente funzionando. Parole, quelle dell'assessore Vimini, confermate dagli esercenti del Centro Storico di Pesaro, che parlano di un turismo crescente e continuo dall'inizio dell'anno ad oggi. C'è un afflusso notevole, quindi stiamo andando molto bene, il lavoro dell'amministrazione è stato positivo e il fatto di aver ottenuto il titolo di capitale della cultura italiana ha portato sia movimento che lavoro. Più turisti, molti gruppi e quindi rendono la città più viva. Da Pesarese posso essere solo soddisfatto della mia città. Il periodo che stiamo vivendo è positivo, mentre la prima parte dell'anno è stata abbastanza fiacca anche dovuto al fatto che il teatro, con la sola stagione di prosa, non è sufficiente. Il ROF diamo per scontato che sia un pienone. Vedo che ci sono tante iniziative, tanti eventi, quindi la città mi sembra molto viva ed è un bene. Poi comunque quest'anno è l'anno della cultura, però è comunque una partenza anche per gli anni che si susseguono. Tutto è iniziato molto prima, c'è sempre stato movimento e quindi poi sicuramente il grosso deve arrivare, però secondo me si vede una bella differenza. Quando c'è il turista, bene o male, il commercio si muove.